Ehi, non è per te, è per la casa. Quale casa? La tua, 112 Ocean Avenue. Che questa forza malefica si è trasferita sul mio fratello? Non è meglio. Questa casa è malefica, questa casa è orrenda, terribile. Porterà James a uccidere tutta la nostra famiglia. Papà sarebbe felice di vederci tutti qui, insieme.